Quando il prefetto che comanda la prima flotta imperiale, quella di Misè, viene chiamato da una matrona che probabilmente risiedeva nel territorio che è oggi Torre del Greco, si rende conto che quella chiamata può essere considerata un emblema di tutte le persone che versano nelle stesse disperate condizioni e quindi prende le navi più potenti di cui dispone, le quadriremi, e dà ordine di andare a soccorrere la popolazione. Gremita la sala del Cineteatro Corallo di Torre del Greco, che venerdì mattina ha ospitato la proiezione del documentario 79 d.C., l'ultimo comando di Plinio, da Misèno, rotta su Pompei. Realizzato dall'emittente TV City per i comuni di Pompei e Bacoli e presentato lo scorso mese di maggio al Teatro di Costanzo Mattiello, il docufilm è stato prodotto in occasione del bimillenario nel 2023 della nascita dello storico e naturalista latino Plinio il Vecchio, con l'intento di riproporre per la prima volta, in modo completo ed organico, tutte le fasi e i momenti in cui si è dipanata quell'impresa militare, passata alla storia come la prima operazione di protezione civile. Un lavoro condotto da Flavio Russo, Ciro Gaglione e Salvatore Perillo, che ha coniugato il racconto delle fonti documentaristiche alla narrazione storica dei fatti. Come nasce questa idea e che seguito avrà questo progetto? L'idea nasce perché abbiamo celebrato nel 2023 il bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio e ci sembrava, da un punto di vista culturale, importante, poiché la vita di Plinio e in modo particolare le ultime ore di Plinio sono state vissute, sono state spese per quella che è passata la storia come la prima operazione di protezione civile, proprio lungo la fascia costiero-vesuviana ci sembrava doveroso omaggiare questo illustre personaggio e lo abbiamo fatto con un piccolissimo contributo culturale che allo stesso tempo ha voluto fare chiarezza ricostruendo tappa per tappa i momenti non solo più importanti, ma tutti i momenti e le fasi in cui si è dipanata quella tragedia umana e quel cataclisma naturale, ovviamente supportato da fonti documentaristiche e da fonti storiche. A fare da cornice all'evento una folta delegazione di studenti e docenti, degli istituti superiori della città, oltreché di autorità politiche e militari, del direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano, e di cittadini intervenuti per ascoltare una pagina di storia della civiltà vesuviana. Al termine della proiezione, gli autori del docufilm, insieme al sindaco Luigi Mennella, hanno consegnato un omaggio alla memoria del compianto attore ed artista torrese, Gigi De Luca, voce narrante delle fonti letterarie, alla famiglia e ai figli. 79 d.C., l'ultimo comando di Plinio, da Miseno, rotta su Pompei. Al maestro Gigi De Luca, galantuomo del teatro, elegante e raffinato artista, che con impareggiabile maestria ha saputo interpretare la profondità delle emozioni umane, offrendo la sua voce ad una pagina in peritura di storia della civiltà vesuviana. Con gratitudine, Ciro Gaglione, Flavio Russo, Salvatore Veri. La ventina alla figlia Maria. Il primo cittadino, durante l'intervento di saluto, ha annunciato la volontà di realizzare un analogo lavoro di ricerca sul territorio torrese. 79 d.C., l'ultimo comando di Plinio, da Miseno, rotta su Pompei, oggi a Torre del Greco. La proiezione del documentario realizzato da Tipu City si replicherà anche qui. Sì, l'ho voluto fortemente, anche perché ho avuto il piacere di vederla quando è stata fatta la prima volta sostanzialmente a Pompei, mi ha molto impressionato. Troviamo la storia, troviamo la cultura in sinergia con le altre città, lavoriamo per riportare in auge questa bellissima nostra campagna, questo bellissimo nostro territorio e questa bellissima nostra città di Torre del Greco. Un progetto culturale che oggi è destinato ad una platea di studenti ma che può sicuramente servire anche in un'ottica di promozione turistica della città. Assolutamente sì, lo scopo è quello, lo scopo è divulgativo culturale, ovviamente in particolar modo per gli studenti che si accingono ad affrontare la società, ma sapere la nostra storia è importantissimo, ma soprattutto anche quello che noi stiamo lavorando è appunto la città turistica, fare in modo che questa città sia da attrattori insieme alle altre città così come Pompei, Ercolano, insomma lavoriamo in sinergia, portiamo nel futuro Torre del Greco. E' intervenuta anche la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, che ha ribadito l'impegno della regione nel sostenere attività di riqualificazione dell'offerta turistica locale attraverso la risorsa culturale. Questa memoria di quello che accade nel 79 d.C. è patrimonio del nostro territorio, delle nostre comunità e questo viaggio che idealmente è stato fatto da chi l'ha ricostruito, e voglio fare un plauso a Flavio Russo, a Salvatore Periglio, a Ciro Gaglione, insomma questo sodalizio che si è messo insieme per tentare di raccontare qualcosa che abbiamo letto sui libri di storia e che invece io ho avuto modo già di apprezzarlo a Pompei con grande suggestione è arrivato a ciascuno di noi e ci ha fatto comprendere l'importanza di quella prima grande operazione di protezione civile che la storia dell'umanità abbia conosciuto. L'idea che questa memoria e la narrazione di questa memoria, tratto identitario della nostra storia, possa essere valorizzato e portato alla conoscenza dei più perché si valorizza il territorio, si fa turismo nei nostri territori e nelle nostre comunità anche attraverso questo tipo di attività. E quindi che si sia cominciato a Pompei passando per Bacoli e si possa continuare in tutti i siti archeologici che in questa fascia di costa accomuna nei nostri territori, a partire proprio da quell'intuizione che è stata del sindaco Mennella di accogliere un'idea progetto che sarà realizzata proprio qui a Torre del Greco, ecco come Regione Campania che ancora una volta rappresento qui stamattina, con gli investimenti che sulla cultura Regione Campania sta facendo da nove anni a questa parte, dai poco cultura ad arte card alla valorizzazione dei nostri siti a cominciare da quelli archeologici, insomma penso che il solco è tracciato e si sta andando nella direzione opportuna.